Capitolo V, paragrafo 1 Adice nunc, quod, pro omnibus est optimum quemque, ut it adicam, militare et edere operas. Allora, il primo verbo è adice, che è un imperativo presente, seconda persona singolare, di adicio adicis adieci adiectum adicere. È un verbo di coniugazione mista, composto di iacio, quindi da iacio più ad, iacio entrando in composizione subisce apofonia, quindi diremo adicio adicis, perché la i è breve. Poi abbiamo est, che è indicativo presente, terza persona singolare del verbo essere. Poi abbiamo dicam, che è un congiuntivo presente di dicodicis dicere, militare è l'infinito presente del verbo milito, militas militare, e edere è l'infinito presente del verbo edo, edis, edere, verbo della terza. Allora, ai fini dell'analisi del periodo, riconosco un quod, quindi può essere congiunzione, oppure può essere pronome relativo, poi lo vedremo nel contesto. Abbiamo un ut e poi abbiamo degli infiniti, militare è un infinito e edere è un infinito. Quindi quod va con est, ut va con dicam, abbiamo i due infiniti, rimane naturalmente che il verbo della principale sia adice, che ora segneremo in rosso, come sempre facciamo con i verbi della principale. Eccolo qua. Passiamo ora alla traduzione. Adice vuol dire aggiungi, aggiungi nunc ora, quindi seguendo proprio il flusso del discorso, capiamo che questo quod è una congiunzione dichiarativa. Quindi aggiungi ora che est è pro omnibus a vantaggio di tutti, per tradurre meglio, possiamo dire a vantaggio della collettività. Poi abbiamo due infiniti e quindi siamo di fronte delle infinitive, di cui optimum quenque è il soggetto. Quindi diremo è a vantaggio della collettività che, ecco, optimum quenque, l'abbiamo visto più volte, in questa opera di Seneca, vuol dire tutti i migliori. Optimus quisque al nominativo vuol dire ciascun migliore, quindi tutti i migliori. Qui è in accusativo perché è il soggetto della infinitiva. Quindi che tutti i migliori siano sotto le armi militare e in mezzo però abbiamo un inciso che ha un valore correttivo. Utita dicam è un'espressione idiomatica che vuol dire per così dire. Quindi che tutti i migliori siano, per così dire, sotto le armi et edere operas. Allora, letteralmente edere operas vuol dire fornire delle opere, quindi che forniscano delle opere, ma il senso è che siano in piena attività, siano nel pieno della loro attività. Allora, i verbi sono est, che è il solito indicativo presente del verbo essere, poi abbiamo ostendere, che è l'infinito di ostendo, ostendis, ostendere, verbo della terza, atpetit, che è l'indicativo presente, terza persona singolare, di atpeto, atpetis. Andiamo a vederlo sul vocabolario. Si può scrivere ad peto, ma possiamo avere anche l'assimilazione della dentale con la labiale, quindi eccolo qua, atpeto, atpetis. E vediamo che la e è breve, quindi atpeto, atpetis, atpetivi, oppure atpetitum, atpetere. Questa è la pronuncia. Quindi, atpetit sarà il modo in cui io devo leggere questo verbo. Poi, reformidat, che è un indicativo presente, terza persona singolare, di reformido. Esse è l'infinito del verbo essere. Abbiamo qui il punto e virgola che segnalo come elemento distintivo fra la prima e la seconda parte del periodo. Nella seconda parte del periodo abbiamo apparebit, che è un indicativo futuro, terza persona singolare, di appare o apparere, verbo della seconda. Poi abbiamo esse, che è l'infinito presente del verbo essere. Tribuerite, ecco qua. Tribuerite può essere un congiuntivo perfetto del verbo tribo, tribuis, tribuere, verbo della terza coniugazione, ma può essere anche un futuro anteriore, sempre di tribo, tribuis, tribuere, terza persona singolare. Allora, tra le due ipotesi, sceglieremo la seconda, cioè il futuro anteriore, perché qui vediamo un futuro semplice apparebite. Abbiamo più volte detto che il futuro anteriore vive in relazione col futuro semplice. Per il rogaverite faccio lo stesso discorso, potrebbe essere congiuntivo futuro anteriore, ma se è un futuro anteriore tribuerite sicuramente è un futuro anteriore anche in rogaverite e viene dal verbo in rogo, composto di rogo. Anche questo andiamo a vederlo, può essere scritto in rogo oppure irrogo con due r. Vediamo, ecco, infatti il dizionario mi suggerisce di andare a vedere sotto il ro, il in rogo. Entrando in composizione dobbiamo leggere irrogo perché la o di rogo è breve, quindi irrogo, irrogas, irrogavi, irrogatum, irrogare, vuol dire proporre, imporre, infliggere. Quindi la lettura qua è in rogaverite, è un futuro anteriore. Allora, vediamo gli elementi subordinanti. Riconosco prima di tutto un quad, poi riconosco un que, pronome relativo. Quad può essere sia pronome relativo che congiunzione, come abbiamo visto sopra, lo vedremo dal contesto. Il que invece è sicuramente un pronome relativo, così come lo è il secondo que, sempre un pronome relativo. Poi segnalo anche la presenza dell'infinito es e anche dell'infinito ostendere. Quindi tra tutti i verbi possibili, naturalmente avremo est come verbo della principale. Traduco questa prima parte, letteralmente vuol dire questo è il proposito a Dio. Questo è a Dio il proposito. È una costruzione evidentemente del dativo di possesso. Non tradurrò mai in italiano questo è il proposito a Dio. Diremo Dio ha questo proposito. Questo proposito quad, qui è evidente la funzione relativa del pronome, quindi proposito che, sottinteso est, è sapientiviro, all'uomo saggio. Quindi anche qua è costruito con il dativo di possesso. Se facciamo il verbo avere, se mettiamo invece del dativo di possesso la costruzione con il verbo avere complemento oggetto, allora dovremmo dire Dio ha questo proposito che, sottinteso ha anche, possiamo sottintendere anche e anche, così è più completa la frase, l'uomo saggio. E adesso spiega in che cosa consista questo proposito, cioè ostendere, mostrare, ecche, queste cose che, oppure possiamo dire anche mostrare, dunque queste cose che il volgo desidera, queste cose che il volgo reformidat teme, ecco, notiamo che qui abbiamo un altro infinito, quindi l'infinitiva, anzi con s, dipende dall'infinito, ostendere, quindi è bene che dopo ostendere nella traduzione noi mettiamo subito il che, che mi introduce, la congiunzione dichiarativa che mi introduce appunto l'infinitiva. Quindi, ripeto, Dio ha questo proposito che ha anche l'uomo saggio, cioè mostrare, e adesso metto il che, mostrare che, ecche que vulgus appetit, queste cose che il volgo desidera, queste cose che il volgo teme, nec bona esse, nec mala, non sono né beni né mali. Nella traduzione ecche italiana, ecche diventa pesante, quindi io l'ho tolto. Quindi mostrare che le cose che il volgo desidera, le cose che il volgo teme, non sono né bene né mali. Ecco qua, invece dei due punti che di fatto poi in latino non ci sono, possiamo mettere un cioè che in italiano spiega bene il valore esplicativo di ostendere. Dopo il punto e virgola noteremo un altro infinito, quindi un'altra infinitiva, una congiunzione ipotetica, la congiunzione sì, e poi un'altra congiunzione ipotetica sì, e un altro infinito, ma la s. Ecco qui. Quindi eliminando l'infinitiva, eliminando le ipotetiche, che sono, vediamo proprio il parallelismo perfetto, s seguito da sì più indicativo futuro anteriore, ancora s seguito da sì indicativo futuro anteriore. Sono proprio, se le mettiamo in fila, la rispondenza mi viene perfetta. Quindi aperhebit, bona esse, e poi si illa, non nisi bonis viris attribuerite, et mala esse, si tantum malis in rugavarite. Ecco qui, messe in colonna uno sotto l'altro, visualizzano meglio, quindi rendono più evidente il parallelismo dei costrutti. Chiaramente rimane soltanto aperhebit come verbo della principale. Allora la traduzione sarà autem, a cui daremo un valore di raccordo ora, aperhebit, sarà chiaro, c'è un'infinitiva, quindi metto subito sarà chiaro che, bona esse, sono beni, si, se, illa non nisi bonis viris attribuerite, se, il soggetto naturalmente è Dio, che qui non viene espresso, se Dio non attribuerite, non li dispenserà, illi sarebbe illa, cioè se Dio non dispenserà illa, quei beni, se non agli uomini buoni. Quindi sarà chiaro che sono beni, se Dio non li dispenserà, se non agli uomini buoni. Et mala esse, e sono invece mali, e sono mali, ecco qua mettiamo pure sono, e sono mali, sì, se, in rogaverite, se li infliggerà, è sottinteso il pronome illa, se li infliggerà, tanto ma valore avverbiale, soltanto malis, soltanto ai malvagi. E dunque aggiungiamo anche che io ho trasformato tribuerite e in rogaverite, due futuri anteriori, in futuri semplici, perché così richiede l'italiano, in italiano il futuro anteriore è inequivocabilmente pesante. Paragrafo 2. Detestabili serit cecitas, sinemo oculos perdiderit, nisi cui eruendi sunt, itaquecareant luce appius et metellus. Sono arrivata al punto e vedo qui un punto e virgola che mi divide il periodo in due parti. Nella prima parte riconosco un erit, indicativo futuro del verbo sum, e poi abbiamo perdiderit che viene da perdo, perdis, perdere, verbo della terza, e potrebbe essere un congiuntivo perfetto o un futuro anteriore. È il solito discorso, siccome erit è un futuro semplice, sappiamo per certo che perdiderit è un futuro anteriore. Riconosco anche eruendi sunt, che mi costruisce la perifrastica passiva, di cui le parti sono sunt, indicativo presente del verbo essere, terza persona plurale, e eruendi, che è un gerundivo da eruo, eruis, eruere, verbo della terza. Quindi riconosco in questo periodo il si, che è una congiunzione ipotetica, riconosco un cui che è preceduto dal nisi, che adesso si appoggia. Quindi rimane che il verbo della principale possa essere soltanto erit. La traduzione, cecitas, la cecità, erit detestabilis, sarà detestabile, si nemo, se nessuno, alla lettera avrà perso, ma in italiano mettiamo il futuro semplice, perderà, oculos, gli occhi, nisi, se non, poi fra nisi e cui, noi dovremmo mettere un pronome determinativo che faccia da antecedente al pronome relativo. Lo metto in rosso, così facciamo vedere che l'abbiamo aggiunto noi, perché in italiano il pronome relativo ha bisogno dell'antecedente, quindi colui traduce is che io sono stata costretta ad aggiungere, se non colui cui, a cui, erwen dissunt devono essere cavati, gli occhi si intende. Nel prossimo periodo abbiamo careante, che è un congiuntivo presente terza persona singolare di care o care scarere, verbo della seconda, è l'unico verbo di questo passo, quindi è il verbo della principale, a questo punto dobbiamo pensare a un congiuntivo nella principale, cioè a un congiuntivo indipendente. Questo congiuntivo ha il valore esortativo, vuol dire care o vuol dire rimango privo, quindi rimangano privi, propriamente sarebbe, oppure siano privati. Care o non è propriamente un passivo, è un attivo intransitivo, quindi rimangano privi itaque, pertanto luce della luce, appio e metello, quindi rimangano privi della luce, appio e metello, oppure siano privati della luce, appio e metello. Non sunt ediviziae bonum itaque abeat illas et elius leno ut homines pecuniam, cum in templis consecraverint, videant et in fornice. Fornice, allora andiamo prima a vedere la lettura di fornice. Fornice viene da fornix, fornix, fornicis, la i è breve, quindi posso leggere fornice, ecco che vuol dire volta, arco, costruzione a volta, però vuol dire anche lupanare, postribolo e anche addirittura per metonimia meretrice, quindi un vocabolo veramente singolare. Allora, c'è un punte virgola a questo punto, quindi io metto il violetto e divido il periodo in due parti, la prima è molto semplice, non sunt ediviziae bonum, questa è un'unica principale, e sunt è il verbo della principale, la traduzione è rapidissima, le ricchezze non sono un bene, non sunt ediviziae bonum. E nella seconda parte riconosciamo abeat, che è un congiuntivo presente di abeo, abes, avere, terza persona singolare, poi riconosco un consecraverit, consecraverinte, e vedo anche che vicino c'è un cum, quindi ci troveremo sicuramente vicino a un cum più congiuntivo, quindi consecraverinte è un congiuntivo perfetto del verbo consecro, consecras, consecrare, della prima, terza persona plurale. Videante è un congiuntivo presente, terza persona plurale, di video, vides, videre. Allora, come abbiamo detto prima, ho riconosciuto un cum nel suo costrutto del cum più congiuntivo, ed ho riconosciuto anche un ut, sempre nell'attribuzione dei verbi alle congiunzioni, e applico la regola del chiasmo che più volte abbiamo detto, quindi vicino con vicino, lontano con lotano, quindi le regole del chiasmo. Allora, ut andrà con videante e cum andrà con consecraverinte. Il verbo del principale sarà abeat, che è un congiuntivo, quindi indipendente. Allora, traduco. Quindi, prima abbiamo detto, le ricchezze non sono un bene. Itaco è perciò abeatillas, le abbia, et elius leno, anche il lenone elio. Abbiamo dunque scelto per abeat, congiuntivo indipendente, il valore esortativo. Quindi, le abbia perciò anche il lenone elio, ut affinché, omines gli uomini, videant pecuniam, vedano il denaro, cum in templis consacraverint, dopo averlo consacrato in templi, et in fornice, anche in un bordello. Ecco, perché gli uomini vedano il denaro, qui lo dobbiamo mettere, ce lo siamo dimenticati, ecco, vedano la pecuniam, quindi il denaro, lo mettiamo in minuscolo, quindi vedano il denaro, eccolo qua, vedano il denaro, dopo averlo consacrato nei templi, anche in un bordello. Nullo modo, togliamo questa riga, che non c'entra niente, eccolo qua, eliminiamo. Bene. Nullo modo magis potest deus concupita traducere quam si illa atturpissimos deferte ab optimis abigit. I verbi potest, indicativo presente del verbo possum, terza persona singolare, concupita è un participio del perfetto, di un verbo che andiamo subito a vedere, il verbo è concupisco, concupisco, concupiscis, concupivio, concupi, concupitum, concupiscere, che vuol dire bramare, desiderare. Poi abbiamo traducere, infinito presente di traduco, traduci, straducere, deferte è l'indicativo presente del verbo defero, ed è una terza persona singolare, è un composto di ferro, ferstuliratum, ferre, e abigit è un verbo della terza, precisamente viene da abigo, ed è un composto di ago, che entrando in composizione subisce apofonia, quindi abigo, abigis, abegia, bactum, abigere, che vuol dire condurre via, cacciare, anche portare via, espellere, eccetera. Allora, quindi, per quanto riguarda l'analisi del periodo, io riconosco un infinito, traducere, poi riconosco un si, ma riconosco prima del si anche un quam, quam si, che è da mettere in relazione con magis, che è un comparativo, quindi magis nel principale è un comparativo, e quam si è la proposizione comparativa che dipende da magis, comparativo di maggioranza. E poi, dunque, quam si illa terpissimus deferte e aboptimis abigit, queste due frasette sono coordinate tra di loro dalla virgola, quindi il verbo della principale è poteste, poteste che chiaramente poi regge l'infinito. La traduzione, deus è il soggetto, Dio, Dio, non poteste, nullo modo, in nessun modo poteste, possiamo applicare qua la regola del falso condizionale, invece di tradurre può, possiamo tradurre potrebbe, in nessun modo Dio potrebbe, traducere, traducere qui nel senso di svalutare, ecco, è un senso molto particolare, per cui è bene andarlo a vedere, traduco, ecco, traduco, il primo valore è quello di condurre al di là, trans, duco, far passare, trasportare oltre, però poi, se diamo un'occhiata, ecco, vuol dire far passare, trasferire, passare, trascorrere, rivolgere, impiegare, e poi abbiamo mettere in mostra, esporre al riso, trascinare in pubblico, svergognare, disonorare, compromettere, è questo il nostro valore, cioè, dice, in nessun modo Dio potrebbe svergognare, potrebbe quindi depreciare, disonorare, e quindi svalutare, concupita, l'oggetto, sarebbe le cose desiderate, ma possiamo mettere l'oggetto dei nostri desideri, magis quam, più che, oppure meglio che, io preferirei tradurre più che, ecco qua, più che, se, quindi quam introduce la proposizione comparativa, più che, se defert concede illa, è un plurale, perché è riferito a concupita, ma se noi diciamo l'oggetto dei desideri, dobbiamo dire lo concede, che se lo concede ai peggiori, atturpissimos, e poi, sempre sottinteso, un magis, quindi un più che, sempre magis quam si, più che, se, abigit, lo allontana, ab optimis, dai migliori, quindi Dio non potrebbe svalutare l'oggetto dei desideri, più che, se, lo concede ai peggiori, più che, se, lo allontana dai migliori. Passiamo ora al paragrafo 3, Questa prima frase è posta fra virgolette perché rappresenta una possibile obiezione che si può muovere, si potrebbe muovere alle parole che ha precedentemente detto. e i verbi sono est, il solito verbo essere, alla terza persona singolare, debilitari è un infinito, presente, passivo, di debilito, debilitas, debilitare, verbo della prima, configi, leggo configi perché la i è lunga, è l'infinito, presente, passivo, del verbo, per l'appunto, configo, ripeto che la i è lunga, quindi configo, configi, sconfixi, confictum, configgere, è la sua lettura. Poi abbiamo alligari che è un infinito, presente, passivo, di alligo, anche qua vale la pena andare a vedere le quantità vocaliche per pronunciare alla perfezione, eccolo qui, è un composto di ad più ligo, quindi alligo oppure adligo, in ogni caso lei è breve e quindi devo leggere così, quindi alligari è l'infinito, presente, passivo, di alligo, alligas, alligare, verbo della prima. Nella prossima frase abbiamo solutos che è un participio del perfetto del verbo solvo, eccolo qua, solvo, solvis, solvi, solutum, solvere, il suo significato è quello di sciogliere, slegare, ma anche liberare, dispensare e sciogliere, poi abbiamo incedere è un infinito da incedo, incedis, incedere, che è un verbo della terza. In questo primo periodo riconosco molti infiniti, quindi li vado subito a segnalare con l'azzurro, debilitari, configi, allegari e poi incedere è l'altro infinito, quindi possiamo dire con certezza che il verbo della principale è est, atti nicum est è la principale, ma è ingiusto, seguono degli infiniti, seguono dunque delle infinitive, allora io metterò è ingiusto che virum bonum è il soggetto delle infinitive, che l'uomo buono debilitari sia indebolito, quindi sia invalido, out configi, ossia trafitto, out alligari, ossia incatenato, e malos, invece gli uomini cattivi e i malvagi, quindi invece i malvagi, qui possiamo mettere un e o possiamo mettere anche un invece, non sento differenza in questo caso, però una cosa è evidente che ne, ne invece ci sono, quindi è chiaro che noi dobbiamo sottintendere o un et oppure un sed diciamo di fronte alla consueta situazione senecana di un assindeto, cioè di una mancanza di congiunzione, di una elisione, di una omissione proprio della congiunzione, quindi un assindeto. Quindi o diciamo e i malvagi se ne vadano liberi, eccetera, oppure ma quindi invece i malvagi ecco malos è il soggetto di incedere, i malvagi incedere solutos, quindi se ne vadano liberi, ac delicatos, ed editi ai piaceri, corporibus integris, letteralmente vuol dire con i corpi integri. In italiano noi rifugiamo da questo tipo di plurale perché noi preferiamo il singolare sintetico mentre il latino preferisce il plurale analitico, cioè tanti malvagi, tanti corpi. Noi invece usiamo malvagi in senso collettivo e poi parliamo di un corpo in senso appunto anche esso collettivo, quindi con il corpo integro. Quid porro è una formula di passaggio che vuol dire ma che e che dunque ecco non est inicum fortes viros arma sumere et incastris per noctare et provallo obbligatis stare vulneribus interim in urbe securas esse precisos et professos impudicitiam i verbi sono est come sempre est inicum corrisponde a inicum est in una situazione a chiasmo inicum est est inicum quindi possiamo parlare di un chiasmo costruito molto alla lontana ma sempre chiasmo poi abbiamo sumere che è un infinito presente del verbo sumo sumis e sumere verbo della terza per noctare infinito presente del verbo per nocto per noctas per noctare verbo della prima della prima è anche stare sto stas est eti statum stare e poi abbiamo precis dunque abbiamo innanzitutto esse l'infinito del verbo essere poi abbiamo precisos e professos che sono due participi del perfetto innanzitutto precisos precisos è il participio del perfetto accusativo maschile plurale del verbo precido ecco mancava lei preciso precidis precidi precisum precidere che vuol dire tagliare troncare asportare e i precisi sono anche gli eunuchi cioè le persone che sono state castrate e virate quindi e poi professos quindi precisos è questo tipo di participio qui poi abbiamo professos che anch'esso è un participio del perfetto del verbo profiteor quindi profiteor profiteris professus sum profiteri che vuol dire dichiarare riconoscere confessare professare ecco professare dichiarare insomma dichiarare pubblicamente vediamo poi che cosa dichiarano pubblicamente allora torno al testo e ai fini dell'analisi del periodo beh innanzitutto vorrei sottolineare tutti questi infiniti quindi sumere e poi per noctare e poi stare e poi esse ecco questi sono tutti infiniti quindi è chiaro che il verbo della principale è est come sopra atinicum est così anche qui non estinicum è la principale che poi regge queste infinitive quindi quid porro ma che non è ingiusto quindi metto subito che perché abbiamo delle infinitive il cui soggetto è fortes viros che uomini forti sumere arma prendano le armi et per noctare in castris e passino le notti nell'accampamento et stare provallo est una difesa del vallo obbligati sul neribus vuol dire con le ferite bendate interim ecco qui il passaggio è invece segnalato dall'interim qui lo abbiamo dovuto sottintendere et o sed e lo metto in rosso perché sono sottintesi qui invece interim è presente mentre ess securos in urbe mentre se ne stanno al sicuro in urbe in città chi è il soggetto di ess securos sono i precisos quindi gli eunuchi castrati gli invertiti qui viene proposta questa traduzione et professos impudiciziam cioè coloro che dichiarano pubblicamente la loro impudicizia quid porro si ripete quid porro esattamente identico a questo qua sopra e ha sempre un valore di transizione quindi ma che non est inicum nobilissimas virgines at sacra facenda noctibus excitari altissimo somnos inquinatas frui allora anche qui abbiamo non est inicum quindi per la terza volta viene ripetuto questo costrutto per cui possiamo già segnare che non est inicum è la frase principale seguono poi degli infiniti il primo è excitari che è l'infinito presente passivo di excito excitas excitare verbo della prima e l'altro infinito è frui che è l'infinito presente di un verbo deponente che è fruar andiamola a vedere perché ha un paradigma interessante fruar frueris fruitus sum oppure fructus sum e frui che vuol dire godere ed è uno dei verbi deponenti che reggono l'ablativo della cosa di cui si gode in questo caso oppure che serve i verbi sono fruoro utor vezzior poscor e fungor questi sono i verbi che vogliono l'ablativo sono tutti e cinque i verbi deponenti vogliono l'ablativo della cosa che appunto si usa si sfrutta di cui si gode eccetera l'altro verbo da segnalare faccenda che va con ad e sacra e quindi è un gerundivo è un gerundivo di faccio facis feci factum facile abbiamo già detto che non est inicum è la principale eccitari è l'infinito numero uno fru è l'infinito numero due e ad sacra facenda vanno insieme traduco non è ingiusto non est inicum che metto subito il che nobilissima mas virgins le più nobili vergini eccitari si alzino noctibus di notte ad sacra facenda per fare i sacrifici questa è una finale costruita con ad più l'accusativo del gerundivo per fare i riti poi qui si viene a creare un'opposizione e quindi si viene a creare esattamente quello che abbiamo visto sopra cioè non c'è una congiunzione la aggiungiamo noi e si crea quindi un assindeto possiamo mettere e come in questo caso oppure come sopra possiamo dire in alternanza e invece stanno bene tutti e due quindi o il valore copulativo coordinante copulativo o il valore coordinante avversativo e mettiamo col verde come abbiamo fatto sopra e invece le inquinatas le inquinatas bellissimo questo aggettivo sono le inquinate cioè sono le le scostumate e andiamo subito a vedercelo perché noi siamo abituati alla parola inquinato in senso ambientale ecco che vuol dire macchiato contaminato impuro ma in senso psicologico in senso morale vuol dire appunto la persona impura la persona ignobile la persona scostumata come abbiamo detto come abbiamo detto prima e bene torniamo al testo e le scostumate frui frui qua nel senso di godere vuole l'ablativo della cosa di cui si gode ed eccolo qua altissimo somno di un profondissimo sonno punto interrogativo paragrafo 4 labor optimus citat senatus pertoltum diem sepe consulitur cum illo tempo revilissimus quisque aut in campo ozium sum oblectet aut in popina lateat aut tempus in aliquo circolo terat in questo periodo riconosciamo come elemento divisore i due punti quindi laboro optimus citat è la prima frase che ha come verbo cito citocitas citare che vuol dire come primo valore mettere in movimento andiamolo a vedere cito come primo valore è quello di metto in movimento il cito non avverbio ma il cito verbo ecco metto in movimento faccio venire metto in movimento di nuovo e poi anche vuol dire convocare citare ecco nel linguaggio ufficiale giuridico vuol dire convocare citare allora quindi poi abbiamo consulitur che è un indicativo presente passivo da consulo consulis consulere verbo della terza oblectet è un congiuntivo presente del verbo oblecto oblectas oblectare verbo della prima lateat è un congiuntivo presente del verbo lateo lates latere verbo della seconda eterat è un congiuntivo presente anch'esso questa volta però ci troviamo di fronte ad un verbo della terza coniugazione tero teris terere andiamo a vedere tero perché ha un paradigma interessante tero teris trivi tritum terere vuol dire sfregare strofinare trebbiare battere quindi anche logorare consumare battere spesso eccetera quindi tero teris trivi tritum terere i verbi sono finiti quindi in questo secondo periodo riconosco un allora ci sono dei congiuntivi oblectet lateat eterat da chi dipendono questi congiuntivi beh sicuramente da cum riconosco il cum che regge il primo congiuntivo oblectet che è preceduto da out guardiamo anche gli elementi coordinanti non soltanto quelli subordinanti il secondo out e poi il terzo out quindi questo congiuntivo regge tre tre verbi questo cum volevo dire questo cum regge tre verbi oblectet lateat eterat che sono poi cadenzate da queste congiunzioni coordinante disgiuntive out 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 allora se citate è il verbo della prima frase verbo reggente della prima frase quindi della prima principale consulitur è il verbo reggente del secondo periodo il verbo della principale quindi allora labor la fatica citate convoca chiama optimus i migliori il senato è il soggetto di consulitur senatus il senato consulitur è consultato sepe spesso per totum diem cioè per tutto quanto il giorno per un giorno intero abbiamo qua quindi un cum più i vari congiuntivi che è un cum inversum mentre invece il lo tempore in quel momento metto anche semplicemente un mentre mentre in quel momento allora vilissimus quisque è la stessa regola che abbiamo visto prima in optimus quisque quindi vuol dire tutti i più sprecevoli allora out oblected o sum sum in campo quindi o occupano il loro far niente o sum sum quindi la loro inattività in campo nel campo marzio out o lateat se ne stanno nascosti io sto traducendo i verbi al plurale perché il vilissimus quisque del latino l'ho trasformato in tutti i più sprecevoli quindi devo parlare al plurale per forza o lateat o se ne stanno nascosti in popina cioè in un'osteria o terat tempus quindi consumano il tempo il tempo è complemento oggetto in aliquo circolo in qualche crocchio idem in ac magna repubblica fit boniviri laborant impendunt impenduntur et volentes quidem non trauntur a fortuna secuntur illam et equant gradus siciscent antecessiscent allora questo periodo è costituito da dei due punti è diviso e suddiviso al suo interno da dei due punti quindi ci sono i due punti e un punto e virgola un altro punto e virgola dopo gradus quindi abbiamo quattro segmenti che costituiscono questo periodo nel primo il verbo è fit è anche l'unico verbo quindi sono già in grado di dire che questo è il verbo della principale ed è un indicativo presente del verbo fio fisse factusum fieri nel secondo abbiamo laborant che è l'indicativo presente del verbo laboro laboras laborare impendunt indicativo presente terza persona plurale di impendo impendis impendere verbo della terza impenduntur è il suo esatto passivo quindi indicativo presente terza persona plurale passivo et volentes è un participio presente possiamo anche segnare questo come verbo di volo volo vis volo i velle e questo è nel secondo periodo quindi laborant e poi impendunt e poi impenduntur sono tre verbi di tre principali coordinate tra di loro e sono coordinate poi dalle virgole non ci sono elementi di coordinazione nel terzo periodo abbiamo trauntur che è un indicativo presente passivo di tra o tra istraere verbo della terza secuuntur indicativo presente deponente del verbo sequor sequeris sequi verbo deponente della terza e equant che è un indicativo presente alla terza persona plurale di equo equa sequare un verbo della prima allora anche qui noto una virgola e poi noto un et come elemento coordinante copulativo quindi anche queste sono tre principali tra untur secuuntur coordinata alla principale e quanta ancora una coordinata alla principale nel terzo periodo abbiamo si scissent antecessi scissent allora naturalmente notiamo subito isent isent quindi un evidente omoteleuto che vado subito a scrivere però lo scrivo maiuscolo rosso omoteleuto quindi il periodo si conclude con questo scissent antecessi scissent che è anche difficile da dire è un omoteleuto perché i due verbi finiscono nello stesso modo isent e isent il primo scissente è il congiuntivo più che perfetto di sci o scisse scire verbo della quarta antecessi scissente è anch'esso un congiuntivo più che perfetto del verbo antecedo antecedis antecedere verbo della terza qui abbiamo un periodo ipotetico puro perfetto abbiamo il si scissente che costituisce la protasi antecessi scissente che costituisce la apodosi e dal momento che vediamo utilizzato il congiuntivo più che perfetto sappiamo con certezza che ci troviamo di fronte al periodo ipotetico della irrealità di terzo tipo della irrealità a questo punto possiamo tradurre idem in ac magna repubblica fit quindi lo stesso la stessa cosa fit accade in ac magna repubblica in questo stato grande il più non ci sarebbe veramente perché magna non è comparativo però è chiaro che il comparativo è sottointeso c'è uno stato più piccolo e uno stato più grande quindi in questo stato più grande ma alla letter sarebbe in questo stato grande buoni viri gli uomini buoni laborant faticano impendunt consumano vuol dire consumano del proprio impenduntur invece sono consumati et volentes quidem e certamente di loro propria volontà volentes non trauntur a fortuna non sono trascinati dalla fortuna secunturillam la seguono et equant gradus letteralmente vuol dire uguagliano il suo passo ne uguagliano il passo cioè camminano al passo con lei si scissente se l'avessero saputo antecessissente l'avrebbero preceduta passiamo ora al paragrafo 5 anche quoque animosam demetri fortissimi viri vocem audisse memini oc unum inquit devobis di mortales queripossum quod non ante mi notam volontatem vestram fecistis prior enim ad istamenissem adque nunc vocatus atsum mi posso fermare qui riconosciamo innanzitutto i due punti che mi introducono al discorso diretto e all'interno del discorso diretto vedo ancora dei due punti e poi appunto il primo punto che abbiamo dove abbiamo interrotto la lettura prima dei due punti vedo audisse che è l'infinito perfetto attivo del verbo audio audis audire e memini memini è un perfetto è un perfetto cosiddetto perfetto logico quindi è un perfetto che io traduco con il presente dovrei trovarlo eccolo qua memini meministi meminisse ed è per l'appunto un perfetto logico quindi vuol dire ricordarsi vuol dire ricordarsi rammentarsi è un perfetto ma io lo traduco con il presente poi dopo i due punti vedo un inquit che naturalmente mi introduce il discorso diretto e dentro il discorso diretto riconosco un query che è un infinito presente deponente del verbo queror quereris query poi possum che è l'indicativo presente del verbo possum e poi abbiamo fecistis che è l'indicativo perfetto seconda persona plurale di faccio e così si conclude ancora in un altro periodo per arrivare poi all'ultimo periodo dove vedo un venissem che è un congiuntivo più che perfetto di venio venisse venire vocatus è un participio perfetto di voco vocas vocare verbo della prima e assum è un composto di sum ed è un indicativo presente prima persona singolare